No, io voto loco, raga. Io voto Buddy. Io non lo so. Io voto comunque va alle 2 perché il canale è mio e quindi decido io. No, il canale è di MarciGames, non di Marci. E io chi sono? È una mappa italiana. È una mappa italiana dove dovrebbe esserci una scritta, non so se è questa o l'altra. Nel caso comunque mi dissocio. C'è scritta, voglio vederla. E chi vuole vederla? Non c'è per poco, però c'è l'Italia, c'è un'erodia all'Italia, raga, dietro. Viva l'Italia. L'Italia, quella... Il caglio. Mi penna, mi penna, fai... Mi penna. Perché salta, raga? Non mi si... Dovete levarvi. No, mi si impegna la moto. In penna. No, raga, anche salta dopo un po' stato attenti. Ma fai saltare, Buddy. Non lo so. Se in penna salta. Io sto facendo... Che bello. Io sto facendo tipo la Wii quando portavo il telecomando verso di voi. È benissimo. Dove? Devo tornare indietro? Ma va? È un face to face, amico. Ma che ne lascia? Io l'ho fatta larghissima, raga. L'ho preso larghissima, raga. E Buddy chiude, Buddy dentro c'è. Entra, attenzione, guido veda. Ma non c'è la... Ma che scusa sempre l'ultimo? Corrie, salta... C'è uno. Ma perché Buddy si è riuscito a cercare? Ma perché l'ho qui primo? Ma proprio sono forte! Mamma mia, attenzione! No, non c'è però! Nico Madrid! No, attenzione, ragazzi. E chi cade ovviamente. Cade marci. Ma perché mo' viola e non mo' rossa, tipo una cosa del genere? Dovevi beccarlo e distruggerlo completamente. Sai che cosa ha best? Sono gli uccellini, gli ci i beccano. Poi ti chiedi perché ti auguro la diarrea. No! Loco! L'altra volta mi ha detto che l'ha fatta un botto, Loco. Sì, veramente. Ma non è video da diarrea questo. Ma giocava a Clash Royale. Perché la diarrea ce l'abbiamo nel video. Mi stai dando della cacca? Non ho detto chi potrebbe essere Buddy, come potrebbe essere Loco. Igo, palesemente. Beh, effettivamente Loco ha un po' le sembianze da... Eccoci ragazzi, scusate. Ben trovati nuovi di MarciGames. Ma non è vero, ma Marci si inventa le cose. Ah! Doi, ma gna gna. Devo tornare indietro? Basta dirlo. Ah, gna. Era un Buddy torna indietro, per favore. Ehi, come si gira. Marci. Prendilo, prendilo, Loco. Che posto? No, prendi fuoco, raga. Spogli occhio. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Senza, eh, vabbè, Loco, con Maggiolino, cioè, cosa lo fai? Ma non esce l'album? Sono contento. Di chi? Di Blanco. Da Supreme? No, di Blanco. Da Senti. Come? Stavi cantando, in frattempo. No. È la tipica persona che canta, mi fa impazzi, però non so di chi è. Infatti non so di chi è. E ti dicono che è di Gigi da lei. Chiediamo a Loco una cosa difficile. La Domus Aurea, che cos'è? E mi fa impazzine. E mi fa impazzine. Io voglio diventare un cantante nel melodico napoletano, ragazzi. A me piace troppo, cioè, ve lo giuro. Io ammiro la capacità che hanno di cantare. Del grande Gigi nazionale. Ma oltre a Gigi, ma ce ne sono un botto. Io intanto gli ascolto. Cioè, Anthony? Francesco. No, no, Anthony e basta, si chiama proprio. Anthony. Poi c'è tipo... Non mi ricordo. Eh, no, a me ti dico quelli di adesso, quelli che spaccano la nuova scuola, la New Wave. Eh, ma la vecchia scuola con... Cioè, immaginate di tipo Nino D'Angelo Fit Blanco. Beh, guarda che, scusami, Gigi D'Alessio ha fatto un album con tutti i... Con tutti i rapper. No. Mi fa impazzine. Gigi D'Alessio, Gigi D'Alessio, Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, Gigi D'Alessio. Scusami ogni tanto... Ma ce ne dico il Phantom, scusami. No, è un camione, basta. Ma perché io sono un bravino? È un piccolo camioncino. Chissà perché, forse sei troppo veloce? Perché mi fa imbazzi. Gigi D'Alessio. guarda ho fatto pure la 60 ehi l'ha visto sono ultimo frena loco così si blocca ma che loco frena devo superare buddy buddy che problemi ha? io lo sto facendo per bloccarvi hai bloccato nico come fa a passare sempre ma sono un maggiolino e porco cavolino e fa giovalino nico fagiolino guarda che faccio ancora un 36 e mi fa imbazzi guardalo no si 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 è schiattato dai vabbè marci arriva mille poi ma come fa? come si fa? non mi toccare ma è però ha cambiato veicolo no l'ha cambiato l'ha cambiato ragazzi aspettatemi ma come che mi fai queste più cazzo te lo dico io sono fermo dritto sei una linea io destra tu sinistro ok? no ti stai avvicinando ti stai avvicinando guarda che persona che persona orribile sei uno schifo tu sei tipo la ciambella uscita senza il buco tu sei quella senza buco che è diventato un craffin ma un craffin di schiaffi io senza buco tu senza cervello è un video buddy ragazzi cambiamo discorso per favore è un video di GTA non è un video di bo oh io non l'ho capito mi sono inchiodato un attimo ma va bene così cosa è successo? io sto fermo non faccio nulla io sto fermo no ma tranquillo non ti preoccupare ma dove? da dove? da chi? come? in mezzo ma vabbè povero loco questo non doveva succedere porca miseria che botta porca pupazza che botta nico mi ha superato ma sono quarto non avevo capito che eri tre check point dietro nico che mi stanno chiamando dal vento dammi un attimo che è una roba importante e mi sai si e poi ci abbandonano e poi ci siamo? l'ho buttito fuori il buddy no 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 io ho fuggato loco dai buddy oddio è uscito dalla mappa è uscito dalla mappa non ci credo dunque marci ma va? va bene o no abbiamo la rispetta ma questo è tipo il bus non è il bus sh125 come è che si chiama? l'aerox l'aerox esatto mamma mia l'aerox modificato che bello mamma mia se avete un aerox modificato scrivetelo nei commenti non modificato ragazze che se vi fermano è un casino va bene ma se dite alla polizia che voi non lo sapevate nessuno dira nulla io non so niente io abito niente il mio aerox ma che problema è vero nico Aspetta, stai un po' dietro tu, io sto un po' più avanti Eh, ma non fa Non fa, secondo me schivano qua Ok, stai così, stai a sinistra Io sto a destra Ha formazione da caccia questa, eh Una curiosità, che macchina avete? Eh... Alla rampa, lo vedi dalla mappa Alla rampa Eh, la rampa contro la moto è in realtà Ok, loco l'ho preso Io ho beccato il nico Sì, ma mi aiutate soltanto, ragazzi, quella rampa Dai, la ho capo e fermato Mamma mia, che outplayata che gli sto per fare a Marci Ho guadagnato dei secondi Secondi importanti Superami, superami, andiamo a prenderli Da sinistra, da sinistra E lo so, ti devi dare la scia Vai con la scia, vai con la scia, piglia la scia Marci Piglia la scia, andiamo! Apri sto Kers Apri il Kers Se schiacci la cosa c'ha il boost, c'hai Marci Il boost? Ma è vero, lo sapevo Nico, adesso ci pensano di te Ok, allora due, ok Mamma mia, attenzione Dai, Nico, insieme, Nico Non credo Non credo Te l'ho preso Ho creduto E ho fu Eh? Dai, loco, loco! Che è davanti? Loco! Marci è il momento Ragazzi, ragazzi Non passate più da qua Si Cosa che hanno quei due? Non lo so, penso un phantom Mannaggia Due phantom in realtà Mannaggia Ho visto lo spiraglio! Non c'è spiraglio E' troppa luce dentro LA STANZA Perché lo muovo? Loco si è suicida, Nico? Sto bene? Nico si è ribaltato ma ce la sta facendo, Marci Mamma mia! Avete fatto andare avanti, Nico? Sei davanti, eh? Ha proprio velocità io Adesso è mood così Adesso facendo il phantom loro, Marci E' finito, non faccio in tempo a prenderlo No, non è arrivato prima Vai, Marci, ti spugno Vai di scia, vai di scia Vai di scia Vai anche tu di scia, vai Parla mia Non so che non ce la faccio Ce la facciamo, ce la facciamo Ce la facciamo Vai, Marci Tienilo dritto Tienilo dritto Tienilo dritto Mi hai buttato fuori Tienilo dritto, ostia Vado io, mi sacrifico io, Marci Muoviti, Luca Uno dei due devi buttarlo giù Uno dei due buttarlo giù Muoviti Oddio, son passato Oddio, son passato Oddio, butta giù, Buddy Non buttarlo giù, Buddy Non buttarlo giù, Buddy Devi buttar giù, Buddy Intanto sta andando avanti Buddy arriva Almeno, Loco non arriva È davvero uno schifo quel ragazzo Vai, Buddy Marci Marci, vai Marci, vai Marci, vai Marci, vai Nico, Nico sta a sinistra Ah, ma non è l'ultima Non ho capito Nico sta a destra Eh, da sinistra, dai, uguale Va bene, ok, vado a prenderlo Tra i ragazzi focussata contro Loco, mi dispiace È Buddy È Buddy È Buddy che deve farcela E mi fa impazziti Eh, raga guardatelo Sta volando Ce la faccio Ce la faccio Ma l'ho ancora vivo Eh, no, non sono più vivo Sono ancora vivo È VIVO È VIVO Eh, però Marci, cioè, voglio prendere la scia Ho capito? Ma sono aperti loro E non ho capito Non ti avevo visto io Loco, sai cos'è uno status symbol? Perché non si riesce con queste cose? Ma perché non ho queste domande? Bentornati a lezione con Marci Oggi abbiamo Loco che dovrà imparare delle cose Ma secondo voi, Loco sai cos'è la rapacis? No Loco mi ammazza Adesso vuoi fare del video e mi uccide È un rapace romano che fa Ah, rapacis Ma tu in che base azotata ti identifichi? Cioè, per me la di Nina è top, ragazzi Sei proprio uno Ione sei, lo sai? Marci, ma tu stai aspettando? No, purtroppo no Ah, ciao Ti ho fatto ribaltare, non ci posso Non mi sono ribaltato, per fortuna Vabbè, però praticamente Perso i secondi Oddio, mi stai raggiungendo Oddio, mi stai raggiungendo Oddio, mi stai raggiungendo Beh, otto secondi, ciò Devi prendere in pieno Niko per partire Io ti voglio far vincere Eh, Niko, sì Guarda Niko Oddio Volevo far vincere Buddy, ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti